Buonasera a tutti, è sempre un piacere ed è sempre un'emozione trovarmi qui con voi a Milano, anche se io vi devo confessare che questa volta ci sono rimasto un po' male, perché normalmente quando vengo qui, quando vengo in Lombardia, a Milano, c'è sempre un clima molto bello, voi mi fate sentire sempre molto amato, parte di una famiglia, però leggendo i giornali, quelli seri, non a diffusori di fake news come siamo io e Foscano, sono venuto a sapere che voi in Lombardia avete una capillare organizzazione che per 100-150 euro distribuisce Green Pass da Rocchi, ora io ho impiegato 6 ore per venire in macchina da Roma, ma se voi avevate tutti questi Green Pass finti, ma non dico regalato, ma almeno uno sconto, me lo volete fare?